Perché avvicinarsi al burlesque? Sì, quindi la donna è libera di gestire tutto il corpo, di mostrarlo e di non mostrare tutto, quindi qualsiasi donna, anche se è grassa, bassa, magra, non importa, non ha bisogno di essere identificata con un suo prodello che ci pone la moda o le tue, quindi ognuna può trovare la sua bellezza e ovviamente è anche divertente perché ci si muove, ci si muove, ci si gioca. E' un po' anche nella nostra accademia, l'Accademia di Alessia di Monodio, cerchiamo di trovare le sue cose, il corpo, ogni donna può avere il proprio personaggio e fa anche bene al corpo, al fisico, si trova la propria postura, una propria eleganza, il movimento e ovviamente c'è modo di diventarsi una cosa, un personaggio per diventare una situazione, una situazione di qualità.